Ciao, buone vacanze! Flaminio, ciao, ciao, ma qua è finito tutto? No, è finita una storia, ma se ne comincia un'altra. Ma dal lunedì al venerdì? Assolutamente. Dalle 7.30 alle 8.30? Assolutamente. Su web, su Facebook e Periscope? Assolutamente. Con i giornali? Assolutamente. Dal 2 gennaio? Double News, tutta un'altra storia.